io ti presento signore e signori questa serata per voi c'è un ospite di porto è un ospite di porto buonasera signori e signori va bene prova benvenuti a questo spettacolo di Natale questa sera per voi un ospite veramente importante l'escezione quando canto un applauso non mi spero di zara intanto facciamo un applauso per me e poi ha detto Nanni Guercio si chiama Guerciusconi Guerciusconi Silenzio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti